Sulla forestazione, difesa del suolo, 40 milioni di euro, questo è sempre legato sul solo per il forestale. Questo credo che sia un finanziamento per Calabria Verde, immagino. Sono insufficienti perché credo che ci sia un'altra posta di 50 milioni che dovrebbe arrivare dallo Stato, quindi alla fine dovrebbero essere 90 milioni di euro, se non vado errato, che sono i soldi che si spendono ogni anno per la forestazione. Qualcosa c'è da dire? La cifra è quella perché è chiaro che ci sono delle maestranze che vanno pagate, vanno retribuite. Il problema è che questi soldi vanno unicamente per i salari. Ora se vanno unicamente per i salari, noi non riusciamo ad avere una forestazione, un impiego produttivo di questa mano d'opera. Su questo è che bisogna lavorare, nel senso che, mentre negli anni passati questi operai hanno fatto opere di rimboscimento, di difesa del suolo, soprattutto sono intervenuto per esempio sulle aste fluviali, ora che succede? Noi interveniamo con i dissesti quando il dissesto è già accaduto, dopo il danno, dopo che il danno è già avvenuto e spendiamo molto di più.